La prolungata assenza di turisti ha fatto sì che l'autentico spirito del luogo ritornasse imperioso a Rio Maggiore, nelle spiaggette, nelle scogliere, nei caruggi del paese. La natura è tornata assoluta protagonista, riappropriandosi mese dopo mese di colori, suoni ed emozioni. Tutta questa pace e tranquillità ha però un drammatico risvolto economico. La nostra economia si basa prevalentemente sul turismo, quindi questi mesi sono stati difficili, anzi ormai è passato più di un anno dall'inizio della crisi sanitaria. La buona notizia però è che con la ripresa dello scorso anno le attività economiche sono tornate a lavorare perché comunque le 5 terre sono ancora una meta turistica molto importante a livello internazionale. È prevista, se tutto andrà bene, è della speranza di tutti, un afflusso, un ritorno dei turisti in queste terre. Questo può comportare dei rischi sanitari per i residenti. Sì, dobbiamo stare comunque ancora molto attenti perché la crisi sanitaria è ancora in corso, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Sarebbe importante riuscire a raggiungere una copertura vaccinale nei territori turistici, quindi non solo Rio Maggiore, adeguata perché dal primo di giugno io spero che si possa tornare quasi alla normalità, nel senso che si possa tornare ad accogliere i turisti come abbiamo fatto lo scorso anno. E questo però ovviamente ha dei riflessi negativi sulla situazione sanitaria e sui rischi che corrono i residenti del comune di Rio Maggiore e appunto, come dicevo, di tutte le località turistiche. Quindi la richiesta che io avevo fatto all'Asa è quella di poter contribuire direttamente, come avevamo fatto per la vaccinazione degli over 80, e quindi aiutare i nostri concittadini a vaccinarsi qui nei territori. Questa è una scelta che poi non è stata accolta, però io ribadisco questo, dobbiamo cercare di essere vicini alle persone, quindi metterle nella condizione di essere anche sicuri e lavorare anche in sicurezza. Nell'era pre-Covid al centro della discussione c'era lo sviluppo di un turismo più lento e meno invasivo. Questa può essere anche l'occasione per rimpensare in qualche modo le forme di turismo in questo territorio? Sì, questa deve essere la nostra grande occasione. Io ho portato in sede di Parco Nazionale una richiesta di riaprire i tavoli di confronto. Avevamo aperto gli stati generali per il turismo alle Cinque Terre, avevamo anche un tavolo a livello ministeriale. Dobbiamo aiutare le attività economiche a sostenere la ripartenza, però lo dobbiamo fare cercando di puntare a degli obiettivi diversi. In parte lo abbiamo già fatto con gli investimenti importanti che ci sono stati sulla manutenzione della rete sinteristica e anche su un modo diverso di fruire il territorio, perché cambiando anche la tipologia di turismo anche noi dobbiamo essere più attenti e quindi migliorare in qualità e in accoglienza. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.